Amici di Tresmondiani bentornati, vado in palestra, oggi ho l'allenamento di side pressure, ragazzi il giorno che prima facciamo il pettorale, adesso lo alleno solamente con i fondamentali del braccio di ferro ragazzi, il petto, la classica panca, non la sto facendo, sto facendo la panca da braccio ferristi stretta e scendendo verso il naso, verso il mento, verso il naso, questa zona qui, arrivando quasi vicino al naso, naturalmente con le protezioni e poi risalendo, questa è la panca da braccio ferristi per stimolare la parte questa qui del gomito, il punto tra l'aggiuntura del gomito e il tricipite, fai questo movimento così, questa zona qui, e allora, poi alleno, dopodiché vado direttamente al side pressure, alla carrucola e oggi proverò un record, ragazzi vedete il video su Arm Wrestling Show, sul mio blog, lo pubblicherò, LuigiLadelfa.it in descrizione e poi anche su Instagram, guardate di tanto in tanto anche Instagram, seguitemi su Instagram, pubblicherò questo video record di doppia esecuzione in contemporanea, farò il side pressure, pressione laterale alla carrucola e in più il pronatore, il pronatore ragazzi, forza dal basso verso l'alto e forza laterale, in sostanza sto in pronazione, non so se sì, penso che la farò in pronazione, con il braccio pronato e in chiusura, bicipite chiuso, in sostanza ci sarà forza dal basso verso l'alto, per tenere sarà tutta di bicipite e pronatore, e poi forza laterale in contemporanea, penso che metterò 60 kg forse di lato e 40 kg di basso, vediamo, vediamo, saranno 50 kg di lato, proverò in isometria, in isometria. Allora, tutti coloro che vogliono sostenere il progetto, lo dico sempre in tutti i video, fate le donazioni, più donazioni, più video, grazie a tutti quelli che stanno donando, e mi raccomando, condividete la raffica dappertutto, arrivederci!